Daniele Perilli, oggi a Penne si inaugura questo nuovo mezzo di soccorso, del soccorso alpino della sezione di Penne, un mezzo importante anche alla luce dei fatti accaduti del 2017, senza dimenticare quelli di pochi giorni fa dei quattro alpinisti morti in montagna. Certamente, questo è un momento importante perché la consegna di questo mezzo dimostra la vicinanza del territorio a noi del soccorso alpino. Questo mezzo purtroppo è legato a una vicenda molto brutta che è la tragedia di Ricopiano e quindi questo dimostra ulteriormente un gruppo di imprenditori, di privati che hanno dimostrato nei nostri confronti un importante segno di riconoscimento per quello che è stato fatto e per quello che quotidianamente facciamo, anche alla luce dei fatti che sono accaduti lo scorso fine settimana. Il nostro impegno è quello di stare sempre vicino a chi ha bisogno di noi e ci impegniamo 365 giorni l'anno per fare in modo che in montagna bisognerebbe andarci in sicurezza e purtroppo stiamo notando che soprattutto in quest'ultimo periodo c'è troppa improvvisazione e in montagna questo assolutamente non va bene. Che tipo di mezzo è questo che è stato donato quest'oggi qui alla sezione di penna? Questo è un Mitsubishi L200, è una macchia molto importante che ci permette di arrivare in posti anche abbastanza impegnativi, attrezzata anche con un vericello e predisposto per fare degli interventi in montagna. Noi siamo sempre pronti però appunto il nostro augurio è che le situazioni di emergenza siano sempre meno chiaramente perché quando non siamo chiamati vuol dire che c'è un problema e quindi quando c'è un problema si parla anche di vite umane e quindi non è una cosa molto bella. Chiaramente per evitare questo bisognerebbe fare tante informazioni.